Ciao a tutti, ed eccomi qua per il nono giorno su This War of Mine Era andato di nuovo al supermercato l'ultima volta, avevo raccattato un bel po' di cose E adesso, vabbè, Pavle è tornato a posto, ho deciso di trovare due armi, una rotta, una chitarra Che però, mi sa che se non trovo chi la sa suonare, non mi ci faccio niente Oh Martin, infatti è una corsetta che gli faccio costruire un bel po' di cose Dunque, facciamo un paio di filtri Appena uno è pronto, buon Bruno, comincio a produrre acqua E adesso incomincio a farmi le fonti di cibo per me Dunque, costruisco le trappole Certo, per chi avesse visto mai Demolition Man Quando mangio l'hamburger Tu vedi delle mucche in giro qua? No, di cos'è fatto questo hamburger? Raton! Purtroppo, la fame è fame E quindi Così Tanto sto continuando a far dormire Pavle Questo? Qualcuno è rimasto? Sto facendo continuare a dormire Pavle Così mi guarisce dalle ferite E adesso, poi, dopo Appena si sveglia Marco E anche lui, tutti felici Ognuno dovrebbe scegliere un ricordo felice Una Dai, fare una corsetta Così Allora, se non sbaglio Il massimo Se non hanno cambiato niente Il massimo che posso averne Comunque rimane sempre due Servirebbe un po' di verdura Attenzione Andiamo Ciao di nuovo Sono Ok, ah, queste sono quelle che io ho dato alle medicine Eh, cioè Mi spiace ma le di bende non ne ho Eh, eh Ma come faccio? Eh Mi spiace ma non posso aiutarti Eh, eh Magari più Eh, magari più tardi Semmai ne troverò Altre Allora, intanto mi ha costruito le trappole Voglio metterci Allora, ho del cibo Ma io non ce lo metto Oppure ci metto Questo qua Il concime Così, da Da uno di concime Si producono due Di Come si chiamano Due di cibo Poi Meglio non sapere che cos'è Ok, intanto anche qui Allora, dovrei aver finito Eh Non ho praticamente più Parti Non posso più produrre niente Esatto, perché ho finito Le componenti Oh Adesso Mi acchiappa ancora un po' d'acqua In teoria È sempre buono avere due filtri già pronti Di giorno in giorno Ho notato Così si possono produrre almeno due unità di acqua E volendo Volendo Se si è veloci Se ne possono produrre anche Anche tre volte l'acqua Quindi avere dodici unità di acqua Dunque In teoria mi servirebbero le vende Per la signora Che magari torna domani Solo che le vende Eh Sono dure Cioè Non avendone neanche una Se la trovo Mi sa che poi me la tengo io Quilupp grade Devo trovare Tanti componenti Poi domani dovranno mangiare Penso Però c'è il cibo in scatola Già pronto E sono quattro Qui Ne tiro fuori altre quattro Poi per dopo Perfetto Vado Vado al termine giorno Faccio dormire Pavle E Bruno Così Spero che si Che recuperano un pochettino Allora Mi servono Mi servono Allora Materiali Materiali Montagne di materiale Scott di Crepto Non ci sono ancora andato Se non sbaglio Qua Era abitato da senza tetto Già molto Se non sbaglio Qua c'è un senza tetto Che chiede del cibo Dovrebbe essere Così Così Gli porto Mi porto uno di cibo E andiamo Allora Partiamo subito bene Qui Non ci dovrebbe essere niente Ah però Mi sfondo tutte le porte Oh che bello Prendo tutto E dovrebbe esserci Vediamo un po' Ok Questa è inchiodata da assi Ma perfetto La di acqua ne ho abbastanza Per il momento Zucchero non lo so Non lo so Che altro sono le componenti elettronico Che adesso vorrei già cominciare A farmi La radio Per vedere un attimino Cosa succede in giro Perché Avendo anche Il tutto fare Mi costa di meno farmela Ed è una cosa utile Perché aumenta il morale E in più Fa sapere Come sono andate le cose Le notizie Cioè Quello che succede L'andamento Cosa è meglio barattare Poi se viene freddo Che anche quello è molto importante Dunque Qui c'è Allora Una gratta Ci sono una gratta Andiamo un po' Cos'è? Per la mia Ho trovato Il rifugio Tra i senza ora Non sono più Andiamo un artista Sono uno di noi Il scrivo scarseggia Ok Ah vedete C'è rumore Dovrebbe essere qua Il tizio Qualcuno ha dipinto Poco di Vedi Molta favore Mi aiuterebbe Potrebbe interessarla Intanto io forzo la porta Vediamo qua Vediamo qua Cosa c'è Medicina e niente Una bella benda Giusto quello che mi serve Allora 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 Questo se non sbaglio Ci mostra Dove raccattare Della buona roba E dietro Dietro quei barili Dai una benda Così si arriva La tizia Un paio di bende No Però questo Questo è alcol puro Questo è ottimo Ehm Cioiello 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 Aspetta Facciamo così Lascio qua Perché io di componenti elettronici Ne ho Ne lascio qua E non so Anche lo zucchero Perché ne ho già Quattro Cinque Di Di alcol Quindi Prendimi Prendere tutti questi materiali Qua che mi servono Lascio qui Questi Prendo Ma anche il gioiello Che non si sa mai Ok Poi devo tornare di qua Con una buona sega Per tirare giù La sparra Boom Se non sbaglio Anche qua sopra Posso andare Vediamo un po' Esatto Vediamo qua cosa trovo Mille bende No Però Anche qua C'è ancora zucchero E poi dopo Farò scorta di zucchero Per Per distillare Termino qui anche questa notte Spero che vi sia piaciuto il video Sì sì Iscrivetevi al canale Che mi piace Al prossimo video E ciao ciao